Hanno agito con tecnica e armi paramilitari, riuscendo a ripulire in una manciata di minuti il cavo dell'Istituto di Vigilanza Sicur Transport in località Germanato, a Catanzaro. Il colpo, messo a segno nel dicembre del 2016, fruttò al gruppo sgominato all'alba di quest'oggi 8 milioni di euro. Questa mattina gli agenti delle squadre mobili di Catanzaro e Foggia hanno arrestato i 15 componenti della banda, all'esito di un'indagine condotta dal Servizio Centrale Operativo e coordinata dalla Procura Distruttale Antimafia di Catanzaro. Tra gli arrestati, anche due soggetti di Cerignola. I malviventi sfondarono con un potente mezzo cingolato. I muri corazzati del cavo e bloccarono le strade di accesso, incendiando oltre 10 auto poste a sbarramento. La rapina fu pianificata nei minimi dettagli e messa a segno in modo chirurgico in appena 12 minuti. Questo grazie alla complicità di un dipendente dell'istituto che fornì alla banda tutte le informazioni necessarie per agire a colpo sicuro. Del posto, le menti, pugliesi, le braccia del colpo. Dalle prime informazioni raccolte, infatti, i criminali del posto, incaricati di raccogliere informazioni logistiche sul colpo, avrebbero assoldato i professionisti della zona cerignolana che avrebbero quindi messo concretamente a segno la rapina.